Abbiamo testato sei hub USB-C e in questo video vi mostreremo quelli che secondo noi offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. E se siete interessati a determinati modelli, abbiamo incluso i relativi link in fondo al video. Top 4. Ugreen Revodoc 7.1 Con sette porte tra cui scegliere, questo hub USB-C ha un'ampia gamma di utilizzi. Innanzitutto, è uno dei pochi a offrire una porta RG845 Gigabit Ethernet, ideale per connessioni stabili e giochi. Inoltre, la sua porta HDMI 4K è valutata a 60 Hz invece dei soliti 30 Hz. La porta di ingresso USB-C da 100 W si è dimostrata efficace durante i nostri test, consentendoci di ricaricare rapidamente il PC con una potenza di 95 W. Sono presenti due porte USB-A 3.0 che possono trasferire fino a 5 GB al secondo. Tuttavia, abbiamo riscontrato che i trasferimenti non erano così veloci, come con altri hub dello stesso prezzo. Infine, le porte per schede SD e microSD sono leggermente migliori rispetto a quelle degli altri modelli testati. In breve, oltre a una porta Ethernet, questo hub include altre sei porte per una varietà di usi. Due USB 3.0, una SD, una microSD, una HDMI 4K a 60 Hz e una porta di ricarica USB-C. Top 3. Anker Hub USB-C 3032. 5 in 1. Con 5 porte, questo hub USB-C consente di caricare il computer mentre lo si utilizza. A tal fine, è possibile fare affidamento su una porta USB-C Power Delivery con 100 Watt di ingresso. La potenza di uscita è di 85 Watt. Dopo i nostri test, possiamo confermare che il trasferimento avviene correttamente. Inoltre, l'hub dispone di due porte USB-A, in grado di trasferire dati fino a 5 GB al secondo, una porta USB-C con la stessa velocità e una porta HDMI 4K 30 Hz. Tuttavia, non sono presenti porte per schede SD e microSD. Durante i nostri test, abbiamo riscontrato che la lettura da una chiavetta USB-A era lenta. Tuttavia, la velocità di scrittura era superiore a quella di altri modelli di prezzo equivalente. In conclusione, questo modello leggero ed economico dispone di 5 porte essenziali. Top 2. Ugreen Revodoc 6 in 1. Molto leggero e compatto, questo hub USB-C dispone di 6 porte. Ci sono 3 porte USB-A 3.0, con velocità di trasferimento fino a 5 GB al secondo. Durante i nostri test, abbiamo riscontrato che la velocità di lettura era davvero elevata. Tuttavia, la velocità di scrittura è stata inferiore a quella ottenuta con altri hub. Anche le porte SD e microSD hanno garantito buone velocità di trasferimento, sia in lettura che in scrittura. L'ultima porta è una HDMI 4K a 30 Hz. Infine, l'unica cosa che manca a questo modello è una porta di ingresso USB-C per ricaricare il PC mentre lo si utilizza. In breve, questo hub ultracompatto ed economico è in grado di leggere schede SD e microSD. Include anche 3 porte USB-A 3.0 e una porta HDMI 4K a 30 Hz. Tuttavia, non può ricaricare il computer. Top 1. Ugreen Revodoc Pro 210 10 in 1. Questo hub USB-C dispone di un totale di 10 porte. Durante i nostri test abbiamo scoperto che la porta USB-C Power Delivery è in grado di erogare una potenza superiore agli 85 Watt pubblicizzati dal marchio. Infatti, il nostro PC si è ricaricato più rapidamente rispetto ad altri hub da 85 Watt, con prestazioni paragonabili a quelle degli hub da 95 Watt. Inoltre, è presente una seconda porta USB-C per trasferire file fino a 5 GB al secondo. Sono disponibili anche 3 porte USB-A 2.2.0, con velocità fino a 480 MHz e una 3.0, con velocità fino a 5 GB al secondo. Abbiamo anche potuto trasferire rapidamente i file da schede SD e microSD. Tuttavia, ciò che distingue questo hub dagli altri che abbiamo testato è la presenza di una doppia porta HDMI, una a 8K 30 Hz e l'altra a 4K 60 Hz. Se a ciò si aggiunge una porta Gigabit Ethernet, si ottiene l'hub perfetto per l'uso professionale o per il gioco. Tutte queste porte comportano inevitabilmente dimensioni e peso leggermente superiori alla media. Tuttavia, abbiamo trovato l'hub facile da trasportare. In conclusione, questo hub USB-C dispone di due porte HDMI, una delle quali può riprodurre 8K a 30 Hz. Dispone inoltre di altre 8 porte interessanti. Il tutto è pensato per un uso professionale e persino per il gioco, grazie alla porta Ethernet. Con questo, si conclude la nostra selezione dei migliori hub USB-C. Se siete interessati a determinati modelli, troverete i relativi link e i prezzi migliori, proprio sotto questo video. Speriamo che i nostri test vi siano stati utili e ci vediamo la prossima volta su Selectos.